E' tutto l'anno che comunque siamo contati e siamo sempre giocatori differenti. A differenza delle altre partite stasera abbiamo giocato da squadra, siamo stati uniti e compatti dal primo fino all'ultimo minuto e questa può fare la differenza per arrivare in zona salvezza. Adesso ormai piange sul latte pensato, ormai è inutile, quindi noi dobbiamo affrontare ogni partita che viene come l'abbiamo affrontata quella di questa sera e stiamo tranquilli che possiamo toglierci qualche soddisfazione in più rispetto a quelle che ci siamo tolti finora. Il migliore in campo secondo te? Io direi la squadra oggi il migliore in campo, però c'è sempre quell'Edoardo Fagioli che quando prende palla e decide di fare qualcosa di buono la fa. Peccato che qualche volta decide di fare qualcosa di non buono e lì si prende la stregliata, però se l'è cavata stasera dai. Il migliore in campo. Secondo me la mentalità è cambiata, è cambiata la mentalità perché questa sera nonostante siamo otto contati, però ci avviciniamo comunque alla squadra migliore, quindi abbiamo preso consapevolezza noi stessi e ce la siamo giocata visto il risultato. Grazie. 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 Grazie.